Tutti si aspettano il nuovo Wolverine perché non sappiamo lasciare in pace un personaggio e poi posso essere doppiato come mi pare perché tanto ho la maschera Che carrozzeria, anche se da questa angolazione potresti ricordarmi Oh ma cazzo! The Kevilrin Le leggende erano vere e ora che hai fatto ridere anche se diviso non c'entri un cazzo forse possiamo fartelo fare Ti prego montami come fai con i tuoi computer Sarebbe come The Witch Oh no, sarebbe sicuramente più facile rispetto ai fume